La Russo vede a un tiro di schioppo i play-off e domani a Laverna i biancazzuri di Antonello Musumeci cercheranno la quinta vittoria consecutiva contro l'Atletico Messina. La sosta forzata di sabato scorso a Fiumefreddo non ci voleva per la formazione ripostese che sta vivendo un momento di forma molto positivo e voleva sfruttare la scia della serie utile di risultati. Fatta eccezione per Falco e Crisafulli squalificati, Antonello Musumeci ha tutto l'organico a sua disposizione. Il tridente offensivo sarà composto da Napoli, Cartellone e Belfiore, con Suman pronto a subentrare in caso di necessità. In difesa Musumeci spera di poter avere in estremis Salvo Pappalardo per affrontare una gara molto insidiosa considerato che l'Atletico Messina è una delle squadre che gioca il calcio migliore delle gironedi di prima categoria dove oggi alle ore 16 i riflettori saranno accesi anche sul campo di Biancavilla dove nella sfida tra il Paternò e l'Atletico Fiumefreddo si affronteranno seconda e terza della classe mentre la capolista Libertas Acireal sarà di scena all'Antonello Raiti di Piedimonte e Tneo dove la formazione locale vuole mantenere il suo ruolo di rivelazione del campionato.